La rottamazione delle cartelle esattoriali. L'Associazione Codici di Gela ha istituito uno sportello con dei professionisti. Esattamente come si possono rottamare queste cartelle? Sì, certamente. Le cartelle si possono quindi rottamare. Riguardano le cartelle esattoriali che sono state notificate da Serit, riscossione Sicilia, dal 2000 al 2015. Questa rottamazione riguarda le cartelle relative ai tributi, non solo tributi relative all'IVA, bollo auto, multistradali, ma riguardano cartelle anche tributi locali come ICI, Tassu, Tosap e anche la Tares. Queste cartelle possono essere quindi rottamate aderendo quindi alla max sanatoria del 2017. Quindi mediante questa sanatoria il contribuente non pagherà i relativi interessi, quindi le relative sanzioni e anche la maggiore rateazione. Le cartelle riguardano non solo le cartelle che sono state notificate dal 2000 fino al 2015, ma anche relative alle cartelle che il contribuente ha rateizzato, però ha pagato soltanto alcune rate, altre rate non le ha pagate, quindi può essere rivista il piano di rateizzazione. Che cosa deve fare l'utente? Deve rivolgersi direttamente allo sportello? Si rivolge presso il nostro sportello che si trova in sede da noi in via Empedocle, vecchia stazione. Noi orari di ricevimento dello sportello è lunedì e mercoledì dalle 16 alle 19. Quindi noi mediante questo sportello il contribuente si rivolge da noi, porta queste cartelle sattoriali che sono state quindi notificate e tramite in relazione alla propria situazione noi verificheremo se queste cartelle possono essere quindi impugnate o meno ove sono prescritte e se vi è un abbattimento degli interessi e delle sanzioni in relazione allo specifico della situazione del contribuente. E tutto avviene in maniera gratuita? Sì, tutto avviene in maniera gratuita, il contribuente quindi si reca presso il nostro sportello e noi diamo un'informazione a 360 gradi in relazione quindi alla situazione del contribuente.